Quando si parla di bonifica, chi ascolta e chi segue i documentari, anche televisivi, pensa che si parli di storia, soltanto di storia, ed invece si parla di attualità, perché se oggi non ci fossero i consorsi di bonifica, forse un territorio come la Maremma tornerebbe addirittura ad essere selvaggio, quasi pericoloso. E sappiamo che cosa significa il lavoro dei consorsi di bonifica per evitare anche emergenze ambientali che purtroppo sono state sempre più frequente negli ultimi anni. Noi parliamo oggi con il Presidente del Consorzio di Bonifica 6, Toscana Sud, Fabio Bellacchi. Cinque anni di esperienza di un consorzio che ha avuto già un grande merito iniziale, quello di unire due territori, cioè la Maremma e il Senese. Fabio Bellacchi, allora cinque anni di attività, ci troviamo in uno dei posti simbolo per la bonifica, siamo alla foce quasi dell'Albegna che ha provocato emergenze nel 2012 e nel 2014. Oggi lo vediamo, vediamo uno scenario incredibile, diciamo pure. Ecco, ci racconti lei il suo lavoro in una terra dove la bonifica è stata centrale anche come storia? Non soltanto da ora ma anche ricordando la partenza da Leopoldo di Lorena, sinceramente terreni completamente abbandonati, adesso si trovano a essere belli, fertili, anche da un profilo turistico. Noi adesso abbiamo messo insieme non soltanto due territori ma abbiamo messo insieme anche due consorsi. Sono stati cinque anni molto intensi, cinque anni dove abbiamo rispettato le regole della legge regionale però c'è stato del lavoro. Stiamo arrivati in fondo che possiamo mandare in gara addirittura tra quest'anno e il prossimo anno oltre i nostri lavori anche lavori per oltre 35 milioni di euro messi a disposizione con finanziamenti sia ministeriali che della comunità europea dalla regione toscana. Per cui anche questo è un segno positivo che la nostra progettazione sono progettazioni valide che stanno facendo breccia in ogni posto dove andiamo. Noi abbiamo delle progettazioni anche sull'irrigazione, questa zona qui dovremo ritornarci sopra sull'irrigazione e stiamo cercando di portare avanti diverse situazioni come dei bacini nella parte alta dell'Albenia. La collaborazione con i comuni è indispensabile? Io direi che è fondamentale perché se te non hai rapporti con i sindaci, con gli uffici tecnici e con gli assessori sembra che i risultati ci siano. Lei pensa di aver restituito tranquillità alla popolazione di Albinia, alle popolazioni che vivono in questi territori agricoli? Io spero di sì e anche facendo delle, non soltanto dimostrando con dei lavori ma facendo anche tante riunioni per dire come in questa zona e abbiamo operato nel migliore dei modi, cercando di rimettere a posto un'Albenia, cercando di rimettere a posto tutte le ritrovole, cercando di rimettere a posto, buon lavoro che era già stato iniziato dopo l'alluvione del 2012, abbiamo cercato di completarlo. Prossimo intervento qui? Allora il prossimo intervento qui è da parte della regione toscana, la cassa di colmata, abbiamo concluso l'aggine remoto e comunque abbiamo sei zone dell'Albenia alta da portare avanti e da sistemarli e anche questi stanno arrivando le autorizzazioni con il finanziamento anche questo della regione toscana. Siamo nel luogo della memoria di un territorio, è qui che la bonifica parte da successo, è qui proprio alla steccaia dove un'iscrizione, una lapide ricorda quel momento 26 aprile 1850 che inizia la bonifica vera, il recupero vero del lago Prile e inizia il recupero della Maremma, la nascita proprio della Maremma e nel quale la bonifica ha veramente lavorato molto perché non è superata la steccaia, anche oggi è fondamentale ed importante Fabio Bellacchi. È fondamentale per tutti i sensi, innanzitutto per ricordare i 600 morti sul diversivo, se ci pensate a quei giorni lì si lavorava in maniera particolare, si lavorava solo d'estate, la malaria e 600 morti sono una cosa terrificante. Poi però da qui parte l'acqua attualmente importantissima per la centrale idroelettrica ma soprattutto per l'impianto di irrigazione. L'impianto di irrigazione è 3.300 ettari, è il più grosso in tutte le maniere della Toscana e sinceramente il Consorzio ce l'ha fatta avere diversi finanziamenti, tra i quali l'ultimo di 6.300.000 che metterà sì ormai in sicurezza il canale, però la cosa fondamentale è che metterà in sicurezza l'argine dell'ombrone e per cui tutto l'argine dell'ombrone che confina con la città e con questa ultima opera verrà messo tutto in sicurezza, sia internamente che esternamente, i lavori dovrebbero, la gara sarà recente e i lavori spero si possono iniziare entro la fine dell'anno. Poi per il resto questo è un luogo saro, il fulcro fondamentale di quello che c'è stata la bonifica nelle terre verso Barbaruta, verso Casotto dei Pescatori, da qui sono nate tutte le terre, viene fuori una bonifica e una zona e un territorio al 100% appostissimo. E dopo l'Albegna e la Steccaia, buon convento, siamo nel Senese quindi proprio accanto all'ombrone, non è lo stesso ombrone che magari si trova nel Grossetano, ma la dimostrazione di come da quattro anni il consorzio stia lavorando anche in quest'area. Con quali risultati, Bellacchi? Ma io direi con dei risultati estremamente positivi perché qui ci siamo sempre, oltre con tre o quattro mezzi nostri direttamente, sempre con 17-18 cantieri aperti con le ditte di Siena, tutte e quasi tutte della provincia di Siena e per cui è stato anche un impulso economico, ma più che altro è stato anche un grosso risultato perché sinceramente in questa zona qui l'abbandono era completo. Purtroppo per le gestioni, purtroppo perché non c'erano i consorzi e questo dimostra il fatto che uno deve pagare qualcosa, però da quando siamo arrivati la situazione è estremamente positiva. Estremamente positiva anche perché io spero che mi sembra una cosa impossibile che a 150 metri sul livello del mare, 200 metri sul livello del mare, un paese di buon convento debba andare sott'acqua. E quindi ci sono anche progetti per il futuro, questo è soltanto un inizio diciamo? Questo è soltanto un inizio, la cosa importante è la salvaguardia di tenere aperto, come fate conto, tenere aperto il ponte sottostante, il ponte del Guado che con tre luci enormi purtroppo buon convento andava sott'acqua.